Abbiamo argomento qui ad Ippocrate, parliamo del sangue del cordone umbilicale. In Italia ci sono 18 banche a cui si possono conferire, si possono donare il cordone, la placenta. In caso di malattie molto gravi, quelle cellule contenute in quelle parti del corpo possono essere veramente molto preziose per un trapianto. E però in Italia si è innestato un business, anche in Europa, peraltro il Parlamento ci vuole mettere mano. Benvenuto al professor Licinio Contu, che è collegato con noi dalla Sardegna. Professore, benvenuto ad Ippocrate. Il professor è il presidente di Adoces, che è un'organizzazione che si occupa proprio di favorire la donazione del cordone umbilicale. Professore, perché è nato questo business? È nato in tutta Europa perché nella maggior parte dei paesi europei le leggi hanno consentito la creazione di banche private che sono previste per conservare a pagamento le cellule staminali per un uso personale. In Italia e in altri tre paesi questo è stato vietato dalla legge, però in Italia è stato consentito che le coppie possano esportare all'estero le cellule staminali, quindi il sangue del cordone umbilicale del proprio figlio, per un uso autologo. Ha un senso, professore, conservare solo per se stessi, per il proprio figlio, per questo trapianto autologo? Ha un senso scientifico farlo? No, non ha nessun senso scientifico perché da un punto di vista medico il numero di patologie che potrebbero teoricamente essere trattate con queste cellule è estremamente limitato, ma soprattutto si tratta di patologie che insorgono nell'arco dei primi 15 anni della vita in cui possono essere conservate le cellule staminali del cordone umbilicale nell'azoto liquido, possono insorgere con una incidenza estremamente piccola. È stato calcolato che la probabilità statistica di utilizzo di un campione di sangue di cellule staminali conservato per uso autologo in una banca è esattamente 0.3063% ed è 5.000 volte minore di quanto non sia la probabilità di utilizzo delle cellule staminali conservate in una banca pubblica. Da parte quindi di tutti, di chi ne abbia bisogno. Professore, quanto costa dall'Italia andare all'estero o depositare in una banca privata il sangue del cordone? I prezzi sono variabili tra una banca e l'altra. Tenga presente che operano in Italia circa 23 banche private e fanno dei prezzi che variano mediamente dai 1.500 euro ai 3.000 euro al momento della raccolta del sangue cordonale e poi c'è una sorta di abbonamento che varia tra i 100 e i 500 euro per la conservazione annuale di queste cellule. Sono soldi del tutto buttati, professore, perché come lei ci ha spiegato e peraltro il Parlamento europeo, lo dicevo prima, ci vuole mettere mano su questa vicenda, vuole regolamentarla, non serve a nulla. Sono veramente dei soldi buttati e peraltro è anche indice di egoismo perché si tiene conservato, ripeto ancora una volta, in modo del tutto inutile, un qualcosa che invece potrebbe essere preziosissimo per salvare altre vite umane. Peraltro, professore, sul sito del Ministero della Salute c'è anche scritto che il trapianto autologo, in questo caso, molto spesso non si può fare o non riesce. Perché? Il trapianto autologo non può essere fatto nella maggior parte delle malattie in cui è prevedibile il trapianto di cellule staminali. Per esempio, nelle malattie genetiche non può essere fatto perché è evidente che le alterazioni genetiche che poi portano alla malattia sono già presenti nelle cellule staminali del cordono umbilicale, ma non può essere fatto neppure in tante altre malattie come per esempio certe leucemie acute che sono dovute ad un'aberrazione cromosomica, la quale aberrazione cromosomica è già presente nelle cellule staminali del sangue cordonale, per cui nessun ematologo utilizzerebbe quelle cellule per trapiantare una leucemia acuta. Noi come Federazione Italiana Adoces e come Comitato Italo-Francese per il buon uso del sangue cordonale abbiamo chiesto e ottenuto apposta per questo un'audizione dal Parlamento europeo che si è svolta il 15 marzo scorso e nella quale abbiamo chiesto al Parlamento europeo che si emani, se possibile, una direttiva in cui vengono ribaditi i principi della volontarietà, della gratuità, della solidarietà e dell'aspetto non lucrativo della raccolta e uso delle cellule staminali, ma non solo, ma anche di tutte le parti del corpo umano. Ora, l'Europa aveva già previsto, sia per esempio per il sangue per scopo trasfusionale, così pure per la donazione degli organi sia da cadavere che da vivente e per le cellule staminali ematopoietiche. In generale aveva già previsto questi criteri che però non sono stati rispettati nella maggior parte dei paesi europei. Ora noi abbiamo chiesto all'Europa che questi criteri che l'Europa già ha emanato e che sono alla base di tutte le sue direttive vengano rispettati in tutti i paesi europei. E peraltro su questo impegno mi pare che ci sia stata perfetta comunanza, accordo fra i gruppi parlamentari europei. C'erano i due vicepresidenti italiani che erano alla vostra conferenza e si sono detti tutti e due d'accordo, quindi dal centro-destra al centro-sinistra. Professore, la ringrazio moltissimo di essere stato con noi ad Ippocrate.